Eccoci al secondo appuntamento con le app di AI in super offerta su AppSumo. Il primo appuntamento, quello che abbiamo fatto nel mese di febbraio, è andato da paura, mi è piaciuto tantissimo, i commenti sono stati ottimi, mi avete chiesto di continuare, quindi facciamo un altro giro. Altre 5 app, 5 software che vi consiglio che sono in offerta su AppSumo. Vi ricordo una cosa, le offerte su AppSumo sono in lifetime deal, significa che le pagate una sola volta, quindi non avete l'abbonamento mensile, ma pagate con una cifra, che ne so, 39, 49, quello che è, e ce l'avete per sempre, come se compravano i software una volta. Allora, tuffiamoci subito nel vivo di oggi, ne ho selezionate 5 e partirei con One Take, One Take AI, che cosa fa questa app? Vi permette di girare un video, infatti dice non devi mai più girare un video più di una volta. Voi girate un video pure col cellulare, in maniera super grezza, mettiamola così, senza particolare attenzione, vi faccio vedere l'effetto che fa. Metto in muto qua, quindi dice, vedete qua è un po' sgranato, la luce è fatta male, eccetera, eccetera, l'audio è tutto gracchiante, l'ho messo in muto, in sottofondo, e l'app in automatico ve lo trasforma in un video del genere. Quindi vi migliora l'audio, vi migliora il video, vi toglie il sgranato, i rumori di sottofondo, vedete come fa, ve lo anima, vi mette le scritte di lato come se fosse una presentazione, e fa tutto in automatico, quindi in base a quello che dite mette un titolo, mette i bullet point, eccetera, eccetera. Non vi faccio vedere tutto il video, se no non la finiamo più. C'è una serie di cose super interessanti che potete sfruttare, traduzioni in varie lingue, vi fa i video verticali per mettere su TikTok, Reel, eccetera, eccetera. C'è dentro una serie di animazioni che potete scegliere voi, c'è dei template dai quali potete partire, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una valanga di funzionalità, come sempre ve le guardate voi con calma. Qual è l'offerta che c'è in questo momento su AppSumo? Su AppSumo lo trovate a 59 dollari invece di 4,99. Che cos'è questa cifra? Perché vedete quel 4,99? 4,99 sarebbe il prezzo se pagate l'abbonamento mensile, mi sembra che è calcolato su due anni, non vorrei dire una sciocchezza. Quindi se dovesse pagare l'abbonamento di One Take tutti i mesi, no, per n anni, sarebbe quello che vi costa. Invece qua lo pagate 59 e ce l'avete per sempre. Questa è una cosa estremamente figa. Vi ricordo una cosa, i link li trovate tutti quanti qui sotto in descrizione, e vi ricordo che sono dei link affiliate, significa che se usate quel link per comprare queste app, io ci guadagno una piccola percentuale. Non mi compro la Stone Martin con questa percentuale, ve lo assicuro, però è un modo, mettiamola così, per ringraziarmi. Viste che ogni tanto mi dite Raff, ma come posso ringraziarti della roba che ci porti qua sopra gratis? Allora, se volete comprarvi uno di queste app, uno di questi software, fatelo utilizzando i link qui sotto. Passiamo al secondo. Il secondo piacerà agli amici, diciamo, che bazzicano nel mondo SEO. Il secondo è Keyword Hero, K-W-Hero. Che cos'è Keyword Hero? È una suite di strumenti, vi faccio vedere, diciamo, qua un po' di funzionalità, è una suite di strumenti che dentro vi fa le classiche attività che potete fare con i software, diciamo, del mondo SEO. Quindi vi aiuta nella creazione dei contenuti, vi fa fare analisi dei competitor, vi fa vedere ottimizzazione delle chiavi di ricerca, vi fa vedere i volumi di ricerca, eccetera, eccetera. Anche qui non mi metto, diciamo, a elencare tutte le funzionalità, tante ve le potete guardare con calma. Diciamo, però è ottimo per avere spunti per il vostro piano editoriale, per ottimizzare i contenuti che già avete, per vedere cosa sta funzionando molto bene nei vostri competitor, eccetera, eccetera. Vedete, c'è proprio le classiche funzionalità. Eppure questo dentro c'ha una bella iniezione di intelligenza artificiale, vi faccio vedere qua sopra, perché c'ha pure la parte di creazione di contenuti in automatico, diciamo, sfruttando l'AI all'interno. C'ha uno strumento per superare l'AI detection, questa è una cosa che ormai si sta diffondendo parecchio, cioè, siccome sono usciti i tool per scrivere con l'AI, stanno uscendo pure i tool per sgamare i software, i testi scritti con l'AI, allora i tool scrivono meglio per non farsi riconoscere da chi scrive con l'AI, eccetera, eccetera. Diciamo, pure questo è bello potente, è bello ricco. L'offerta che vedete qua su AppSumo, vi faccio vedere AppSumo, è comodo perché vi dice pure un'alternativa a quali software è. Quindi in questo caso potrebbe essere un'alternativa a dei software più blasonati, come SEMrush, Ahrefs e così via. L'offerta che trovate su AppSumo in questo momento è 69 dollari, invece di 5,99. Vi ricordo pure un'altra cosa che non ho detto prima, tutte le app che vi segnalo che sono su AppSumo hanno 60 giorni di garanzia soddisfatto e rimborsate. Quindi io cosa faccio? A volte quando mi interessa un software ma non sono sicuro della qualità o se mi può essere utile, me lo compro comunque, lo provo un pochino e ma lei va e chiede dei soldi indietro, voglio dire, se non vi convince, se non è quello che fa per voi, se non c'è quella funzionalità che vi serviva, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, diciamo, da sottolineare, perché può essere un... A volte no, uno potrebbe preoccuparsi di non comprarlo per quello, al di là delle cifre basse, mettiamola così, ma poi soddisfatto e rimborsate, secondo me, toglie sempre tutti i dubbi da questo punto di vista. Andiamo alla numero 3, che si chiama AdCopy, e AdCopy è uno strumento di AI che vi permette di, diciamo, ottimizzare le vostre ads su Meta, ok? Quindi Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Si collega pure con il vostro Meta Ad Manager, si collega in automatico, potete importare da lì le campagne, cosa vi fa fare? Vi fa fare ottimizzazione dei testi, vi fa fare A-B testing, vedete come fa vedere qua dalla funzione da A, e potete fare tutto direttamente da lì. Quindi potete caricare le creatività, potete fare le variazioni dei testi, quindi importate le campagne, e lui vi dice, guarda, questa campagna potresti migliorarla in questo modo, cambia questo copy, no? Cambia questo titolo, eccetera, eccetera. Ve li riscrivi in automatico, no? Un po' come si vede pure da qua. Vi automatizza la B-Testing, eccetera, eccetera. Pure qua, diciamo, ci sono una valanga di funzioni da A, vi lascio il link, vi conviene andarvelo a spulciare con calma, non voglio che questo video duri 30 minuti. L'offerta che c'è al momento per AdCopy è di 59 dollari, invece di 5,88. 59 dollari, significa, che ne so, 45 euro più o meno, a occhio e croce. E qua come alternativa, vi dici, questa è un'alternativa a Jasper, per esempio, se lo conoscete, che è uno dei più famosi per scrivere copy con l'intelligenza artificiale, oppure copy.ai, che pur si sta diffondendo parecchio negli ultimi tempi. E come vi dicevo prima, prima vi ho ricordato, questi sono un lifetime deal, quindi pagate 59 e ce l'avete per sempre. Se avete la garanzia 60 giorni soddisfatti o rimborsati, che pure è un'ottima cosa, diciamo, che vi può aiutare a scegliere. E secondo me c'è un altro aspetto importante, quando guardiamo questi strumenti, è andare a vedere quali sono le alternative. Cioè, se uno si voleva comprare, che ne so, voleva fare l'abbonamento a Jasper, o a Copy, dici, aspettando, fammi provare magari AdCopy, e poi vedo se effettivamente mi serve passare a qualcosa di più costoso e così via. A volte questi tool possono essere molto acerbi, no? Perché magari sono nuovi, sono appena arrivati sul mercato. Io però li vedo sempre come degli investimenti nel lungo periodo. Mi è capitato più di una volta di comprare qualcosa e conservarlo, un po' come faccio con i libri, no? E poi li tiro fuori dopo mesi. Di comprare una cosa, conservarlo, perché magari aspettavo che mettessero quella funzionalità che volevo io. E quindi con 59 dollari ti porto a casa uno strumento che oggi è un po' immaturo, un po' acerbo, però magari tra sei mesi si è trovato un tool bomba e l'hai pagato quattro soldi, no? E magari gli altri lo pagheranno tantissimo con l'abbonamento. Il quarto che vi consiglio oggi, che vi faccio vedere, si chiama GoZen, GoZen Growth. Che cos'è? È una piattaforma, qua dice All-in-one revenue growth platform, che non si capisce niente. In realtà è una piattaforma, diciamo, di email marketing e cold outreach, ok? Quindi è una piattaforma per fare email marketing. Quindi avete classiche cose all'interno. Potete fare delle automazioni, potete fare delle drip sequence, quindi delle sequenze, potete fare warm-up delle caselle email, potete fare, che ne so, l'ottimizzazione delle campagne, potete fare segmentazione dei vostri gruppi di utenti, pure qua, no? C'è una valanga di, diciamo, di funzionalità che vi potete spulciare voi con calma. La cosa interessante è che gestisce anche le notifiche push, oltre alla parte di campagna, vi fa creare dei form per l'iscrizione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, sapete di che tipo di strumenti sto parlando. Sono strumenti per fare campagne email. Si integra con le piattaforme di e-commerce in automatico, eccetera, eccetera. C'è una valanga di, diciamo, di funzionalità. Anche questa è una super offerta, perché sta 59 dollari invece di 708, e questo, se volete, può essere un'alternativa a software famosi, come possono essere MailChimp, ConvertKit, eccetera, eccetera. Quindi un pensierino ce lo farei, sempre con quest'idea, no? Di, mi posso pigliare una cosa oggi che pago pochissimo, magari non ha tutto quello che serve a me, ma poi da qui a qualche mese mi trovo in mano un software della madonna e io quando l'ho preso l'ho pagato quattro soldi. E ve lo dico spesso, no? Che mi capita a me che mi dite, ah Raff, ma tu c'hai questo software? E hai detto, sì, l'ho comprato due anni fa su AppSumo e l'ho pagato quattro spicci. Vi faccio vedere l'ultimo, TextFocus. Questo, diciamo, è sempre per il mondo SEO, però con un focus principale sulla parte di semantica. Quindi è un'ottima accoppiata insieme a Keyword Hero, quello che ho fatto vedere il numero 2. Vi ricordo, tutti i link che vi sto dicendo li trovate qui sotto in descrizione. Mettete dentro, diciamo, una pagina e una parola chiave e vi fa vedere quanto quella pagina è ottimizzata per quella parola chiave. Vi fa vedere le ricerche semantiche correlate, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, pure qua c'è un bel po' di roba interessante, più sulla parte di analisi, se volete, no? Analisi del vostro sito. Vi fa l'analisi per farvi vedere quali sono le keyword che state utilizzando, se ci sono dei miglioramenti che potete fare, magari utilizzo di sinonimi, no? Cambiare alcuni concetti, eccetera, eccetera. Vi fa suggerimenti in tempo reale e così via. Pure qua è una valanga la, diciamo, le funzionalità che trovate. E TextFocus in questo momento sta su AppSumo a 89 dollari invece di 6,45. Quindi pure qua, diciamo, un risparmio della madonna. Nel video che abbiamo fatto il mese scorso alcune persone mi hanno detto oh, io ne ho comprato due o tre ho risparmiato qualche migliaia di euro. E infatti se ci pensate è veramente così, cioè, guardate qua, qua ne risparmiate, quanti sono? 500 euro e passa. Qua ne risparmiate altri 600 e così via. Non dico che uno le sa di comprare tutte e cinque, ma già comprando due o tre ha veramente risparmiato qualche migliaio di euro. E questa, diciamo pure, questa può essere un'alternativa a Samrush, visto che questa è una delle funzionalità che Samrush ha al suo interno. Tutti i link che vi ho detto li trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando nell'essere veloci perché queste campagne a volte durano poco. Quindi c'è qualcuna magari che trovate per parecchio tempo e alcune che invece chiudono dopo poco che ho pubblicato il video online. Quindi poi qualcuno mi viene a dire raff, ma il link non funziona più, ma l'offerta è finita e lo so, voi, vi dovete semplicemente muovere. Anzi, vi lascio adesso a schermo il video del mese scorso perché c'è qualche campagna che è ancora attiva. Quindi cliccate e andate a vedere se potete ancora comprarvi qualche tool del mese di gennaio. Grazie a tutti.